Hai mai pensato che la tua vita non fosse quella che hai sempre desiderato? Io sì, lo ammetto, tranquillamente. Ti dico però che col tempo ho capito che tutto ciò è un'incredibile stronzata. Sì, l'ho capito grazie a mio nonno. Mio nonno, lo vedi, è il tipico vecchiettino di 90 anni, ma con una forza d'animo e una voglia di vivere che sembra agli occhi delle persone un adolescente. Sì, sembra un ragazzino. E mio nonno non ha avuto una vita semplice, anzi, ne ha passate tante. Ma le ha vinte tutte, proprio grazie a questa forza d'animo. Lui infatti mi ha insegnato che ogni vita vale la pena di essere vissuta, nessuna esclusa. Sì, perché la vita a volte è difficile, è dura. Molte volte ci mette con le spalle al muro, ma tutto ciò che ci fa passare deve essere preso come una sfida, una sfida per noi stessi, per far vedere quanto siamo forti. E ricordati che la vita, se vissuta fino all'ultimo, se vissuta con le persone che amiamo, è stupenda. E quindi non ascoltare me, ma ascolta mio nonno, che è giusto un tantino più saggio di me. Ogni vita vale la pena di essere vissuta, specialmente la tua.